Rettore, oggi un dibattito sulla spending review dal titolo Il peso della pancia. In generale, di che cosa parliamo? Il rapporto tra il debito pubblico e la spesa pubblica e quindi le possibilità di contenimento. Gli ultimi anni si sono alternati 5 governi che hanno portato a 33 report diversi di elaborazioni sicuramente dal punto di vista accademico importante su come operare sulla spending review ma il risultato concreto è che il debito cresce e la spesa pubblica anche cresce. E le preoccupazioni anche da parte dei cittadini rispetto al rapporto di quando si parla di tagli che siano poi di fatto tagli lineari è una sensibilità che è ancora molto forte. Quindi un convegno come questo qui all'interno dell'università da parte di autorevoli relatori a partire Carlo Cottarelli che è cominciato a dare la stura rispetto a delle ipotesi di spending review ragionata e degli altri autori che cercano anche di coniugare il concetto di spesa e di taglio della spesa col concetto poi di crescita, di sviluppo dei territori rappresenta sicuramente un'opportunità.